Quando ho pensato che sarei stato qua con voi per illustrarvi le mie ricerche, devo dire che mi sono sentito un attimo a disagio e ho voluto parafrasare un discorso che fece De Gasperi quando andò alla conferenza di pace di Parigi e quindi dirò che prendo la parola in questo consesso e sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me e soprattutto la mia qualifica di avvocato che mi fa sentire francamente un pochino un intruso, però non ho voluto rinunciare all'onore di portare all'attenzione di tanti veri scienziati che stimo ed ammiro le poche cose interessanti trovate facendo ricerca da dilettante nel senso che lo scopo principale che mi spinge a farle è la curiosità ed il diletto. Nelle varie occasioni che abbiamo avuto di incontrarci con Claudio e con gli altri la sera il mio argomento principale erano i solitoni e mi sono accorto però che ero praticamente l'unico a parlarne e allora Claudio mi ha detto la prossima volta che organizzo qualcosa magari parlaci un attimo dei solitoni questo signore è John Scott Russell ed è un ingegnere scozzese il quale nel 1834 nell'agosto di quell'anno stava facendo un giro a cavallo e stava pensando a come progettare la prua di una nave e mentre faceva questo giro arrivò allo Union Canal che è proprio quello che vedete nell'esatta posizione in cui ci sono quei signori in centro a lato vi erano due cavalli che trascinavano una chiatta improvvisamente entrambi i cavalli forse per la stanchezza si fermarono e lui notò che si generò un'onda alta una 30-40 centimetri quell'onda arrivò dalla parte esterna del canale diventò di circa 9 metri e la seguì con lo sguardo per un po' e notò che apparentemente non subiva attenuazioni e la cosa lo incuriosì parecchio seguì quell'onda per circa 4 km in un rapporto poi che fece alla società in una riunione della società di ingegneri cui faceva parte riportò questa sua esperienza gli parve singolare il comportamento di quest'onda perché apparentemente violava la dinamica dei fluidi conosciuti allora quella di Newton e di Bernoulli e chiamò queste onde non le chiamò solitoni ma le chiamò onde di traslazione vediamo come mai non cambia eccole qua apparentemente questa è rimasta una scoperta che per molti decenni non ha avuto delle spiegazioni appunto le sperimentazioni che vennero condotte da Russell sembravano essere in contrasto con le teorie idrodinamiche che erano che andavano per la maggiore all'epoca e ci fu una seria difficoltà da parte della comunità scientifica ad accettare queste sue queste sue teorie non riesco a capire perché non cambi abbiamo saltato una diapositiva c'è sto dispositivo che non allora solo nell'era dei computer e quindi si è dovuto attendere fondamentalmente l'inizio degli anni settanta del secolo scorso si sono si è cominciato a comprendere appieno l'importanza della scoperta di Russell e le innumerevoli applicazioni che i solitoni hanno in fisica in elettronica in biologia e in particolare per quanto riguarda le fibre ottiche infatti negli anni settanta vi era l'inizio dello sviluppo delle comunicazioni in fibra ottica e uno dei problemi fondamentali che dovevano essere affrontati era il fatto che il segnale ottico pur essendo le fibre molto performanti dal punto di vista della loro trasparenza però ogni tot chilometri anche un centinaio di chilometri dovevano poi essere il segnale ottico doveva essere ripetuto e rinforzato a qualcuno venne in mente di utilizzare dei laser ma utilizzare dei laser solitonici cioè dei laser che generano degli impulsi estremamente rapidi dagli 800 ai 200 nanosecondi e utilizzando questo sistema effettivamente si riuscì a coprire delle incredibili distante la distanza massima fu di 44 mila chilometri quindi vuol dire aver fatto il giro della terra e ancora di più sembrava tutto bello avevamo trovato la soluzione del problema poi in realtà alcune linee in fibra ottica vennero effettivamente messe in situ ma ci si accorse che nel momento in cui la fibra passava dalla terra per esempio all'oceano e quindi vi erano delle variazioni di temperatura il sistema collassava cioè la grande capacità dei solitoni apparente di trasportare energia senza perdita dell'energia stessa in qualche modo collassava da lì la scienza di fatto non si è più occupata dei solitoni poi vedremo che non è proprio così ma comunque lo studio dei solitoni ha subito sicuramente un rallentamento se potessimo andarla a mettere in qualche altro modo ecco qua quando inizio le mie sperimentazioni ora abbiamo visto che ci sono tutta una serie di applicazioni dei solitoni ecco io mi sono dedicato alle applicazioni in elettronica quando inizio le sperimentazioni io non conosco i solitoni non so nemmeno che che esistano e come me probabilmente anche tante persone che fanno ricerca sto facendo un esperimento per quanto riguarda nel quale il passaggio di una collente elettrica in un filo metallico nel momento in cui cessava improvvisamente il passaggio della corrente il fondo misurato col contatore Geiger dopo 5-6-7 secondi mi dava un eccesso allora comincio a ragionare su cosa poteva succedere lì la prima cosa che mi è venuta in mente è che visto che il filo era anche avvolto a spirale in buona sostanza si creasse una cosiddetta onda smortata una damped wave e io una gran parte del lavoro l'ho fatta pensando agli effetti di queste onde smortate tornando a ragionare dal punto di vista proprio strettamente scientifico ho voluto partire da cercare di capire quali potevano essere gli effetti che un segnale radio poteva avere praticamente sulla materia e la prima cosa che mi è venuta in mente forse per un meccanismo naturale perché io per tantissimi anni ho fatto radiomatore lo sono tutto ora anzi mi è venuto in mente il tubicino che Marconi usava come sistema di ricezione cioè il coesore lì all'arrivo di un segnale radio c'era un calo improvviso della resistenza elettrica e quindi c'era un effetto facilmente verificabile almeno per il mio povero laboratorio per cominciare a fare un ragionamento su quale poteva essere l'effetto di un segnale radio sulla sulla materia allora cosa ho fatto ho studiato un attimo il coesore ho visto che di fatto non vuol proprio cambiare questa diapositiva vediamo se c'è un punto sono andato a ristudiarmi il coesore il coesore di calzecchi onesti poi c'è anche qui una diatriba scientifica su chi sia stato effettivamente ad ideare questo sensore ma ce la risparmiamo e a questo coesore e dal coesore di calzecchi onesti io ho cercato di applicare dei segnali radio che generavo fondamentalmente comprimendo dei cristalli piezoelettrici e ho cominciato ad esaminare il funzionamento del coesore eccolo qua ho realizzato dei coesori fin qui è tutta scienza assolutamente nota ho realizzato più coesori ho realizzato i due non vuoi proprio andare se no lo mandiamo avanti vediamo se allora ho realizzato più coesori ce n'è un altro vedi se riusci a mandare avanti eccolo qua ho realizzato due coesori uno tusteno nickel e l'altro ferro nickel e l'ho fatto delle misure applicando queste onde che generavo se puoi andare avanti queste sono le tabelle cioè si parte da una resistenza infinita e si vede che per esempio nel coesore nickel ferro applicando quest'onda si passa da una resistenza infinita a 45 ohm da qualche mega ohm a 34 ohm da qualche chilo ohm a 72 ohm e sempre della resistenza infinita a 29 ohm se vai avanti il nickel tusteno da altri dati che stanno a media sono differenti da quelli della letteratura ufficiale perché si dice che il coesore nickel tusteno dovrebbe funzionare meglio del ferro nickel però i miei dati sono questi andiamo avanti studio il coesore e cerco di capire perché funziona allora le teorie che esistevano poco dopo il tempo in cui è stato inventato e che sono rimaste tali per 80 anni erano che le particelle metalliche dentro il tubetto di vetro si sarebbero organizzate cioè messe una dietro l'altra a seguito del campo elettromagnetico che arrivava quindi si organizzavano in relazione proprio all'effetto del campo ricevuto e quindi la resistenza elettrica scendeva poi ce n'era un'altra che diceva queste nelle polveri metalliche si creano delle microsaldature e sono queste microsaldature che abbassano la resistenza elettrica per eliminare queste due teorie per confutarle ho deciso di eliminare la polvere ho detto ok se io elimino la polvere già queste due teorie che secondo me non erano quelle reali anche perché la prima quello dell'allineamento l'ho smentita mettendo un magnete estremamente potente sul coesore e il coesore funzionava ugualmente se le polveri di ferro avessero dovuto organizzarsi a seguito dell'arrivo di un'onda elettromagnetica io francamente non capivo come sarebbero state in grado di superare la forza di un magnete tanto potente le microsaldature anche scartate per un altro discorso che poi vedremo e sono passato a delle semplici lamine metalliche sono dei semplicissimi foglietti di alluminio che andavo a sovrapporre la parte che vedete sopra è un pezzo di plexiglass che serviva solo per dare stabilità al dispositivo ecco già gli esiti delle prove fatte con questo coesore mi hanno permesso di dire che dal punto di vista della resa era molto migliore degli altri guardate il primo dato da una resistenza infinita sono passato a 4 centesimi di a 4 decimi scusate di ohm addirittura un ohm tolte evidentemente le resistenze parassite quindi quella è la misura fatta togliendo tutte le resistenze parassite poi andrà avanti nel fare i coesori a lamine a un certo punto nel mio laboratorio è arrivata una persona che si è molto interessata alla cosa e mi ha detto provo a farli anch'io e nel suo laboratorio ha realizzato dei coesori questo signore per lavoro riparava delle apparecchiature radio e un giorno mi telefona e mi dice guarda che io sto lavorando col col tuo coesore ma questo genera un segnale radio a 3 mega e 9 e sono sicuro che è quello perché nel momento in cui io tolgo tensione all'alimentazione c'era un'alimentazione praticamente una semplice resistenza di carico le due lamine sovrapposte che andavano a massa togliendo la tensione di alimentazione il segnale radio spariva tornando a ricollegare ricompariva il segnale radio abbiamo fatto delle misure di spettro e abbiamo scoperto addirittura che generava tutta una serie di segnali che arrivavano fino a 1 giga 2,50 quindi nell'ambito delle microonde la cosa molto interessante di questo dispositivo che poi ho tralasciato perché le mie finalità erano altre ma che intendo in qualche modo riprendere in mano era che se io davo inviavo un'onda sempre generata dal cristallo piezoelettrico cessava il segnale radio gliene dava un'altra e il segnale radio ripartiva quindi senza proprio né sfiorarlo né staccando l'alimentazione puoi andare a vedere nel fare le prove scopro che nel momento in cui io comprimo il cristallo ottengo una tipologia di solitoni nel momento in cui io lascio quindi si decomprime il cristallo secondo me succede qualcosa di diverso e cominciò a comprendere che ho a che fare con due onde diverse poi studiando i solitoni scopro che i solitoni effettivamente io li chiamavo alfa e omega ma scopro che si chiamano solitoni chiari e solitoni scuri per la fisica classica il solitone scuro peraltro era stato scoperto neanche da tantissimo nel mercurio nel corso della sperimentazione appunto vedevo che non solo crollava la resistenza elettrica di quel contatto ma quando mandavo un'altra tipologia di segnale quella che vi ho illustrato prima quel contatto si apriva e quindi ho pensato di utilizzare questo fenomeno per aprire e chiudere un circuito elettrico e però mi sono anche riservato il fatto di studiare meglio le onde a quel punto solitoniche perché ho scoperto che c'erano i solitoni e l'ho scoperto per tutto un altro meccanismo cercando di ragionare su cosa succedeva là dentro mi sono incontrato con i laser solitonici e da lì ho pensato che questo fenomeno avesse a che fare con i solitoni va pure avanti ecco questo è il primo dispositivo realizzato è semplicissimo c'è una basetta di vetronite è stata fotoincisa in modo da lasciare delle parti la parte esterna che praticamente è una parte di massa e poi ci sono tre lamine la lamina principale due lamine laterali in un verso e una nell'altro puoi andare avanti questo è di fatto il dispositivo praticamente completo quello che si vede in giallo è un condensatore quella che si vede qui in basso sulla destra è la resistenza di carico queste sono le dimensioni fisiche puoi andare avanti lo schema elettrico è questo prevengo una domanda perché l'osservazione che mi è stata fatta quando ho mostrato queste cose mi sento ma dove è la massa allora la massa c'è e sta nel nel G dove vedete io iniettavo inizialmente e poi questa cosa la iniettavo inizialmente perché stabilizzava il funzionamento del 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 dispositivo era una piccola onda quadra generata da un generatore che aveva però una resistenza molto bassa 50 ohm quindi era il punto G che andava a massa però attraverso la resistenza del del generatore ah questo è non so se si sente l'audio vi faccio vedere il fenomeno vi faccio vedere un attimo il mio laboratorio ci sono allora io ho collegato queste due barrete alluminio sono al microfono 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 ah scusami ecco allora io ho utilizzato queste barre un po' grosse per dare una stabilità alla cosa sono collegate l'una con un cavo e l'altra nell'altro con due morsetti ai cavi dell'ometro della fluche adesso se guardiamo se riuscite a vedere mi muovo un po' troppo ma era per far vedere che i collegamenti vanno direttamente dove devono andare lì c'è una resistenza di un mega e nove quindi sono circa due milioni di ohm di resistenza elettrica tra quelle due barrette io adesso manderò un segnale solitonico semplicemente comprimendo il cristallo e quello che succede è questo che la resistenza improvvisamente crolla e va a 20 e 13 ma la cosa molto interessante è questa specie di freeze sui due decimali cioè la resistenza elettrica è particolarmente precisa allora uno potrebbe pensare ma è la resistenza di chiusura di questo contatto in realtà non è così perché se io do un'altra onda solitonica questo punto si sposta adesso vediamo dovrei darne un'altra scende in questo caso ecco vedete scende a 13 ohm però 13 sempre e 14 ohm se gliene da un'altra può anche salire perché qui il generatore era non perfettamente di solitoni chiari come li chiamo io e quindi qui probabilmente dovrebbe risalire di qualcosa si è andata a 13 e 91 e sono stretto un attimo a vedere da qui 13 e 90 però sempre vedete con i due decimali fermi pensate che questa cosa non è non avviene solo sulle resistenze molto basse io sono riuscito ad ottenere delle resistenze da 5-6 chilohm con 4 decimali fermi ma proprio perfettamente fermi non c'è una misura che chi fa elettronica come me fa quando misura una resistenza elettrica che rimanga proprio con tutti i decimali fermi perché ci sono mille fattori che vanno a cambiare la resistenza anche la dilatazione termica le variazioni termiche ci sono mille cose che fanno un discorso di questo genere e questo è un fenomeno molto molto importante secondo me perché è previsto da una teoria quella sulla superconduttività di Val pubblicata pochi mesi fa che dice che esiste la superconduttività esiste la superesistenza ma esistono anche le superesistenze intermedie cioè dei punti nei quali gli elettroni passano con una resistenza precisissima e quindi questo potrebbe dare luogo a degli studi più accurati da quello queste sono le commutazioni io faccio crollare la resistenza elettrica mandando sul dispositivo che avete visto prima quello fatto semplicemente con le lamine mando un segnale solitonico la tensione era alta ai capi del dispositivo va bassa quello che vedete è il treno delle piccole onde quadre che usavo ma non uso più per stabilizzare il funzionamento vai avanti si può ottenere l'opposto cioè io con un sistema giù mando un solitone quelli che io chiamo scuri aumenta la resistenza elettrica e quindi si riapre il circuito che si era chiuso a questo punto mi viene in mente di studiare meglio questa cosa pensavo sempre alle damped way questa è la rappresentazione dell'onda che viene fuori quando io comprimo l'accendino la si ottiene semplicemente mettendo una piccola resistenza di carico ai capi del un 10 kg ai capi del sensore del probe dell'oscilloscopio e lui ti dà quest'onda io che cosa ho fatto ho cominciato a dire ok nel cristallo mi si genera una cosa di questo genere quindi è un'onda smortata che genera questo effetto però io ho cercato di ricostruirla sinteticamente puoi andare avanti allora ho utilizzato un attenuatore digitale e ho generato quella che insomma in linea di massima è la peggiore delle foto che ho fatto ma non sono riuscito a recuperarne altre per questa conferenza me ne sono venute anche di migliori ma insomma questa per me era un'onda smortata cosa scopro che se io applico direttamente quest'onda smortata il dispositivo non comuta affatto quindi ho cominciato a pensare di avere a che fare con delle onde che hanno delle caratteristiche peculiari e secondo me poi andare avanti ho pensato che il dispositivo fosse diverso da un segnale radio normalmente generato infatti sui coesori ho fatto delle prove partendo da frequenze bassissime radio sono arrivato fino a 16-17 giga e mai il coesore ha avuto una commutazione quindi tutto il range delle frequenze in cv doppio come le chiamiamo noi delle frequenze continue non ha mai dato nessun tipo di funzionamento quindi ho cominciato a pensare che la generazione di quest'onda nascesse da un fenomeno entro il cristallo oppure entro un materiale ferromagnetico perché entro un materiale ferromagnetico perché inizialmente ho realizzato scusa se un attimo avanti un trasmettitore perché se volevo realizzare un componente elettronico non è che poi uno può andare a pilotarlo con la scatoletta e premere poi il bottone del cristallo dovevo trovare un modo per generarle in maniera elettronica cioè generare il sistema di comando per via elettronica e dentro quel tubetto ci sono delle delle barrette di ferro scube un materiale ferromagnetico particolare dovete notare la particolarità della bobina non è una bobina normale quella quella si chiama caduceus coil cioè la bobina del caduceo il caduceo è il il simbolo dei farmacisti per esempio se voi vi ricordate come il simbolo dei farmacisti quella è una bobina che a volte in modo da non generare assolutamente un campo magnetico quindi l'eccitazione delle delle barrette avviene senza che ci sia un'applicazione di campo magnetico è la sola variazione del campo elettrico che fa funzionare il dispositivo se io avvolgo una bobina normale non ottengo solitoni ecco questi sono i due dispositivi poi dal punto di vista elettronico realizzati con quelle con quelle bobine più piccole che generano l'uno solitoni chiari e l'altro solitoni scuri il dispositivo però realizzato così ha ancora qualche piccolo problema cioè con la barretta di ferro scube aveva un difetto diciamo così se la barretta di ferro scube veniva esposta accidentalmente a un campo magnetico dal punto di vista elettronico non cambiava nulla cioè io se controllavo con l'oscilloscopio non vedevo nessuna differenza però il trasmettitore non trasmetteva più solitoni non riusciva più a generarli questo è il ricevitore di solitoni anche questa meriterebbe poi una trattazione a parte lo schema di principio è molto semplice sono due dio di sciocchi in opposizione di fase tra collettore e mettitore gli sviluppi poi successivi di questo ricevitore di solitoni invece hanno comportato un grossissimo lavoro perché ho dovuto lavorare molto su tutta l'elettronica del dispositivo ma in particolar modo dal punto di vista software per avere un detector di solitoni che mi identificasse solo ed esclusivamente i solitoni eliminando qualunque altro tipo di disturbo però questo è stato fondamentale perché adesso io riesco a conoscere cioè so se un qualunque apparecchio perché poi i solitoni fanno parte della nostra vita se uno va vicino a un forno a microonde il ricevitore di solitoni pur essendo l'apparecchio completamente schermato mi dice che genera solitoni perché il magnetron dentro è un generatore di solitoni i cristalli gli attuatori piezoelettrici quelli che vengono usati per generare ultrasuoni sono degli straordinari generatori di solitoni e ci sono tante apparecchiature che apparentemente non dovrebbero generare nulla ma che in realtà generano solitoni ma tutto questo studio è stato possibile perché ho un ricevitore che mi dice guarda questo è un solitone non è un disturbo non è qualcosa altro è qualcosa che viene generato in un lattice cristallino che può essere un metallo che può essere un cristallo che può essere però sempre un lattice cristallino perché loro nascono dentro i lattice cristallini professore la richiamo possiamo al massimo tre minuti siamo alla fine del tempo accelererò un attimo così arrivo questa è l'antenna un'antenna estremamente particolare meriterebbe un discorso anche l'antenna ecco dal ferro scube sono passati i cristalli di quarzo cristalli di quarzo che non hanno il problema dell'esposizione ai campi magnetici posso esporli a un campo magnetico ma lì non cambia assolutamente nulla vai avanti ecco questo è il il trasmettitore diciamo così quello con un po' di potenza in più si vede il cristallo ialino dentro e attorno c'è la caduce uscoil che vi ho fatto vedere prima vai avanti con due trasmettitori fatti in maniera diversa non con i cristalli di quarzo ma ancora con le barrette oggi ho realizzato il primo dispositivo di commutazione sono passato alla graffite quella che vedete in mezzo è una barretta di graffite vai pure avanti il dispositivo così come realizzato è insensibile ai campi magnetici anche estremamente intensi scusami la caratteristica interessantissima è che commuta a vuoto cioè io non devo applicare nessun campo elettrico e la commutazione avviene comunque cioè io ho il dispositivo mando il segnale il dispositivo commuta è come l'interruttore della luce è un interruttore meccanico cioè io so che è acceso e spento perché faccio passare la corrente elettrica ma in realtà lui è comunque o acceso o spento al di là del fatto che la corrente circoli quindi è realmente è un interruttore meccanico questo è il il dimostratore che manda due impulsi uno al generatore microfono uno al generatore di solitoni chiari l'altro al generatore di solitoni scuri i segnali escono attraverso questi due entrano dentro la scatoletta che avete visto prima non c'è nessun componente attivo qua dentro se non la barretta di grafite quello che viene fuori è questo segnale inquadra cioè il dispositivo praticamente commuta alla frequenza che viene generata dal 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 controller insomma ecco vai avanti questo è il brevetto che ho fatto vai avanti ancora un attimo così vediamo e io salterei gli ulteriori discorsi perché andrebbe un pochino per le lunghe dovremmo parlare del del paradosso fermi pasta ulam che è alla base dei solitoni andiamo avanti i solitoni fondamentalmente nascono dal caos però ecco quello che penso vai avanti ancora un po' perché c'è una parte che invece vorrei far vedere nascono dal caos però hanno la capacità almeno negli esperimenti che ho fatto io di ordinare la materia sto parlando della materia perché il dispositivo è realizzabile con qualunque materiale ho provato tutti i materiali possibili immaginabili e la cosa straordinaria è che ha degli effetti anche nell'acqua gli effetti nell'acqua sono addirittura clamorosi ho dei filmati estremamente interessanti ma riguarda un'altra cosa che poi è oggetto anche di privativa industriale in questo momento e quindi ecco questa invece è una cosa importante guardando il dispositivo come realizzato cioè la barretta il cristallo di alino con la bobina a volta attorno mi è venuto in mente il laser perché il primo laser era una barretta di rubino con una lampada all'oxeno che lo eccitava qui il meccanismo di eccitazione è quello allora ho detto se dentro quel cristallo c'è un meccanismo di andata avanti indietro di una qualche particella probabilmente fononi questo andare avanti indietro nella dimensione fisica del cristallo mi deve generare un segnale un segnale in banda stretta allora faccio le prove le foto sono quelle che sono perché lo spettrometro era veramente una cosa di buona qualità ma questo è lo spettro senza nessuna emissione nel momento in cui io genero eccolo là lo vedete in fondo qui c'è un segnale in banda strettissima sono 11 kg e 200 e qui ho fatto alcuni calcoli visto che viene generato dentro un cristallo che non fa è di 3 cm ma in realtà poi c'è una lamina metallica in mezzo lavora su una delle due metà va a una velocità che è intorno ai 900 quasi 1000 metri al secondo dimmi mi sono occupato solo a me interessava un segnale in banda stretta che c'era questo è lo spettro prima siamo un po' al termine finisco solo questo e poi purtroppo c'erano delle altre cose molto interessanti ecco quello è torna vai avanti vai avanti la cosa interessante è che questo è lo stesso segnale però avendo avvicinato al generatore nel momento in cui c'è la produzione del solitone un magnete molto intenso molto intenso sui 2500 gauss e vedete che c'è non è più in banda stretta a dimostrazione anche del fatto che sono la generazione dei solitoni è alterata dal campo magnetico non c'è più l'andata avanti indietro in maniera proprio coerente diciamo così ma è un segnale molto disturbato sporco ed è un segnale in banda larga questo è quello che abbiamo detto poi stiamo ragionando io collaboro con un fisico quantistico professor Caligiuri e stiamo ragionando su cosa esca da quel laser diciamo così probabilmente escono delle quasi particelle ma ci stiamo ancora ragionando questo è l'impiego di un laser su un filo di nickel questo è un'esperienza tornando al laser ma un laser solitonico però impulsato a 80 mega vedete questo è il fondo e si vede un'alterazione del fondo in corrispondenza questo è un altro grafico vettoriale ma è in perfetta corrispondenza con l'utilizzo del laser sul filo qui siamo andati avanti moltissimo questi sono gli esperimenti ancora di diversi mesi fa un'altra cosa interessante sono questi due impulsi che corrispondono cioè variazioni del fondo non particolarmente però sono evidenti e corrispondono temporalmente all'accensione del laser la cosa interessante è che sopra c'è il rivelatore di neutroni che dà in loro corrispondenza praticamente temporale e coerente l'emissione di due neutroni corrispondenza di questa variazione del fondo e qui siamo andati avanti molto ma concluderei qui grazie di tutto grazie grazie